Oggi vi propongo in affitto un appartamento sito a Travacò Sicomario. Travacò Sicomario si trova vicino a Pavia, vicino a San Martino. È un paese ben servito, c'è anche la linea del box extraurbana che ti porta direttamente in città. Cosa molto bella è che poi comunque l'appartamento non si trova in una delle frazioni di Travacò Sicomario ma proprio in Travacò Paese, più precisamente vicino al comune, via Papa Giovanni. Diciamo che l'appartamento è ideale per ospitare o un single o massimo una coppia. Si trova il piano rialzato ed ha un bel balcone. Adesso cominciamo a dare un'occhiata al filmato. Perfetto, questa è la planimetria per farmi capire com'è che è strutturato l'appartamento. Allora si trova in una palazzina, diciamo media, non è né grande né piccola, comunque hai diversi appartamenti e le parti condominali sono tenute in ottime condizioni. L'immobile è al piano rialzato dove vedete quelle due finestre. Ok, allora cominciamo a dare un'occhiata all'interno. Allora questa qua è la cucina abitabile. Viene lasciato l'arredamento della cucina, ovvero l'angolo cottura, mentre il tavolo con le sedie è dell'inquilino che sta andando via. Abbiamo l'aria condizionata che qua in pianura padana è molto utile. Poi abbiamo questo bel terrazzo che dà sia sulla cucina che sulla camera da letto. Ok, adesso andiamo a vedere, diciamo, la zona notte. Allora qua ritorniamo nel disimpegno. Andiamo a finire nel disimpegno della zona notte. Qua, come vedete, è il bagno. Il bagno ha una doccia. Anche qua viene consegnato vuoto il bagno vero alla lavatrice, quindi dovrete comprarla voi. Camera da letto, anche lei viene consegnata vuota. Quindi anche qui voi dovrete comprarvi la vostra camera da letto. Comunque bella spaziosa dove ci sta un armadio, una cassettiera e ovviamente il letto matrimoniale. Ricordo che è riscaldamento autonomo. Grazie. 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 Grazie.